Novità in vista per la raccolta dei rifiuti nei quartieri di Borgo Santa Maria, Pozzo Alto, Case Bruciate e Tre Ponti. Il servizio di raccolta bussa la tua porta è la nuova modalità di raccolta domiciliare dell'indifferenziata che verrà estesa ai quartieri interessati a partire da lunedì 19 ottobre. Con l'introduzione di questa nuova modalità saranno eliminati i cassonetti stradali e al loro posto verranno introdotti bidoncini che saranno svuotati una volta alla settimana. Ogni famiglia o condominio dovrà provvedere ad esporre il contenitore nelle immediate adiacenze dell'ingresso della propria abitazione sul suolo pubblico. Dopo il ritiro dei rifiuti i contenitori vuoti dovranno essere riposti all'interno della proprietà. Per il primo anno inoltre verranno consegnati anche 50 sacchi trasparenti affinché l'operatore possa controllarne il contenuto. Nel caso in cui siano presenti materiali non idonei e quindi differenziabili il contenitore non sarà svuotato e su questo verrà posto un adesivo con scritto materiale non conforme. Successivamente potranno invece essere utilizzati anche i sacchetti comuni. I residenti di Borgo Santa Maria, Pozzo Alto, Case Bruciate e Tre Ponti dovranno esporre il porta rifiuti al di fuori della propria abitazione tra le 21 di domenica sera e le 7 di lunedì mattina. Durante la giornata di lunedì poi i rifiuti saranno prelevati e smaltiti dagli operatori di Marche Multiservizi. Il passaggio ad un sistema di raccolta domiciliare comporta un piccolo mutamento delle proprie abitudini, dal momento che il servizio richiede l'esposizione del bidoncino al di fuori della propria abitazione nel giorno e nella fascia oraria prestabilita. È necessario inoltre che i contenitori siano esposti sul ciglio della strada senza lasciare nulla all'esterno di questi. I kit per la raccolta dell'indifferenziata saranno distribuiti giovedì 15 ottobre dalle 9.30 alle 18 a Pozzo Alto nell'oratorio parrocchiale. Venerdì 16 ottobre dalle 9.30 alle 18 il kit sarà invece distribuito a Borgo Santa Maria presso il centro sociale. Infine sabato 17 ottobre dalle 9.30 alle 18 la consegna avverrà a case bruciate presso il centro polivalente. Per meglio informare i cittadini sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati sono previsti inoltre degli incontri pubblici a cui prenderanno parte i tecnici di Marche Multiservizi e l'amministrazione comunale. Il primo è fissato per lunedì 12 ottobre alle 21 a Borgo Santa Maria presso il Parco dei Tigli. Il secondo appuntamento avrà luogo martedì 13 ottobre alle 21 a case bruciate presso il centro polivalente. Infine mercoledì 14 ottobre alle ore 21 il terzo incontro si terrà a Pozzo Alto all'interno dell'oratorio parrocchiale in via del castello abitato.